Abbiamo fatto un attimo di trituvanza per una partenza un po' sorpresa. Ricordo che questi prototipi sono quattro ruote motrici, quindi vetture molto performanti. Purtroppo per una volta ci sono tre vetture da spostare urgentemente, AS159NT, DT349RV, CX030NF. Interverranno i nostri mezzi per spostarle. Ripeto con una volta AS159NT, DT343RV e CX030NF. Abbiamo Frizzo che ci sta facendo vedere, nonostante qualche errore di troppo, si sta facendo vedere un dominio abbastanza del contatto. Vedete che le posizioni restano congelate. Questi mezzi sono molto equivalenti e qui potrebbe fare la differenza tra qualche spalatura e qui potrebbe fare la differenza tra qualche spazio. Siamo alle ultime curve. E poi si può fare la differenza tra qualche spazio. E qui potrebbe fare la differenza tra qualche spazio. L'interno fa giù. E qui potrebbe fare la differenza tra qualche spazio. Grazie a tutti.